bentornati nella mia cucina oggi andrò a preparare un dolce tipico di questo periodo con un frutto altrettanto tipico ossia con le castagne andrò a preparare quindi il mon blanc però a modo mio prima di tutto andrò a lavarle le metto in ammollo e poi ci rivedremo fra un paio di ore ed eccole qua trascorse un paio d'ore le andiamo a travasare nell'acqua per portarle a in bollizione in bollizione Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.